creativa, pragmatica, materna, rischiosa, entusiasmante pronto, pronto, aiuto, aiuto sto male, aiuto, aiuto, prendetemi, sto male, sto male hai all'improvviso capisci che ti devi sbrigare ad attaccare, eccolo là e qui hai chiuso una cosa dopo tre anni di università ho deciso di cambiare la mia vita sono andata alla ricerca della cosa migliore per realizzare questo sogno ho incontrato Cassiopea è come una grande famiglia se vuoi parlare con i docenti puoi essere libero di farlo i docenti sono aperti, disponibili, presenti sono stato uno dei primi a partecipare al progetto didattico dell'Accademia e a iniziare un percorso professionale e quest'anno siamo arrivati anche, sono molto felice, ad avere otto ore al giorno di lavoro tutti i giorni sono tre classi, si articola in un triennio poi la sera abbiamo anche i laboratori per le persone che di giorno fanno un altro lavoro però poi hanno bisogno di seguire la loro passione del teatro e poi ci sono i laboratori per i ragazzi, adolescenti e poi c'è tutta una parte della scuola che invece è dedicata alla salute psicofisica perché Cassiopea ha un taglio molto preciso, molto particolare quindi cerchiamo di accogliere il ragazzo quando arriva e di aiutarlo ad evolversi non soltanto come una macchina espressiva, tecnica, ma ci occupiamo un po' di tutto quello che è il suo stato bio, psichico, spirituale lo più possibile ognuno di loro va osservato, in silenzio, stimolato, poi lasciato insomma come con i figli ma meglio perché non hai l'implicazione che siano figli reali e quindi questo è quello che di più vicino c'è all'amore incondizionato ho scelto Cassiopea innanzitutto per il programma che presentava un programma molto vario che comprende diverse discipline che vanno quindi dallo studio della musica alla danza a delle materie più olistiche come la bioenergetica o il Qigong edizione, movimento scenico, teatro danza, stage di recitazione cinematografica facendo musica, canto, strumento, ritmica, storia del teatro, recitazioni in versi di combattimento scenico, c'è di tutto soprattutto perché ti dà la possibilità di iniziare con uno stage che è un vero e proprio percorso di una settimana di ciò che vivi nell'accademia riesci anche a iniziare a conoscerla una vicinanza con gli studenti che ti unisce ancora di più quindi non vedi più il singolo individuo all'interno di una classe ma proprio un gruppo c'è chi viene per conoscersi meglio c'è chi è proprio appassionato a questo mestiere una formazione completa, varia una eperogenità di insegnamenti è un ambiente in cui c'è una particolare attenzione alla persona c'è una scuola che non dà delle ricette già pronte ma è una scuola che mette l'allievo nelle condizioni di crearsi un proprio sistema di lavoro personale la cosa di cui sono sicura è che questa accademia mi ha dato una formazione concreta mi ha dato delle basi su cui lavorare e nel corso dei tre anni ha affinato la mia persona adesso sono più sicura di me stessa e devo ringraziare l'accademia comunque quindi ora so dove indirizzare le mie energie apro, porto i bravi e hanno seconda quello che mi spiace è che molte volte i ragazzi approdano una scuola senza essersi informati bene allora io non dico vieni a Cassiopeia e non andare altrove io dico leggi bene e poi fatti attrarre da quelli che sono i tuoi valori primari che riconosci come valori primari Cassiopeia è pragmatica profonda matura amorevole grazie a tutti grazie a tutti